Nuovi posti di lavoro a Malta per ben 250 autisti bus. Il Servizio di Trasporto Pubblico Maltese ha avviato le selezioni per reclutamento di conducenti per assunzioni nel trasporto pubblico con contratto a tempo indeterminato. I candidati selezionati si occuperanno del trasporto di passeggeri sulle linee programmate lungo tutta l'isola, assicurandone la sicurezza e rispettando gli orari previsti per le corse. Dovranno inoltre mantenere le buone condizioni del mezzo, assicurarsi che i biglietti di viaggio siano stati obliterati, redigere report relativi a quanto accaduto in servizio e fornire indicazioni ai passeggeri. Le assunzioni per autisti bus saranno effettuate mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato con sei mesi di prova con orario full time. L'azienda offre anche una formazione gratuita iniziale e assistenza. Gli interessati alle future assunzioni a Malta e all'opportunità di lavoro per autisti di bus possono candidarsi inviando il curriculum vita e lingua inglese tramite il sito www.publictransport.com.mt entro l'8 luglio del 2015.